Ecco la splendida chiesa di San Francesco a Bologna, uno stile gotico che ha fatto scuola di gotica. Una chiesa molto particolare perché come vedete è circondata da alberi e sicuramente davanti la piazza è stata in parte piantumata grazie del terreno di riporto. Qui possiamo vedere la facciata a vento. Purtroppo questa chiesa fu gravemente danneggiata dai bombardamenti degli angloamericani e quindi all'interno non vi sono più ad esempio gli affreschi. Però è comunque un'architettura stupenda che invito tutti a vedere quando venite a Bologna. Piazza San Francesco è un punto di ritrovo per i giovani.